A Teramo il Consiglio straordinario provinciale tenutosi ieri per discutere della riduzione della riserva naturale del Borsacchio imposta dalla regione Abruzzo ha portato un acceso dibattito tra maggioranza e opposizione. Dopo un lungo confronto protrattosi fino a sera è stata presa una decisione volta a sollecitare la regione a riconsiderare la recente riduzione dell'area protetta da 1100 a soli 24 ettari. Un documento che sostanzialmente chiede alla regione Abruzzo di tornare indietro su quello articolato approvato durante la finanziaria regionale per riportare la discussione all'inizio dove si era interrotta quindi tornare all'apertura con le parti sociali, con le persone, con i portatori di interessi, con le associazioni, con il territorio affinché si possa arrivare a una conclusione che possa essere anche un taglio di 1100 ettari come originariamente proposto. E' come la giunta regionale ha fatto ma dopo un ampio confronto con tutto il territorio. Due le proposte portate all'attenzione del Consiglio provinciale, una redatta da parte della maggioranza e una da parte dell'opposizione che però non ha trovato l'approvazione da parte del Consiglio. Sì, l'opposizione ha portato un documento, non era chiara la procedura indicata dall'opposizione perché all'inizio da una parte chiedevano di mantenere la riserva così come era stata approvata nel 2005, dall'altra chiedevano di inserire una consultazione, un confronto con le commissioni consigliere regionali, quindi le due cose cozzano di persone nella procedura e non poteva essere assolutamente accolta. Ora il prossimo passaggio sarà quello di portare il documento provinciale in regione per chiedere un passo indietro sulla riperimetrazione imposta. Sì, si è una ragione a chiedere di tornare indietro, quindi annullare quell'articolato approvato e aprire un confronto che possa tornare a avere la democrazia al centro della gestione della regione Abruzzo. Cosa che è mancata, soprattutto nelle modalità di approvazione, un'approvazione ricordo fatta alle tre di notte durante la finanziaria, di per sé fa comprendere che un blitz politico piuttosto che una volontà di apertura e di equilibrio con i territori.